Mercoledì sera di fuoco a Gela in provincia di Caltanissetta. In particolare, un pulmino di un centro per la riabilitazione dei disabili, a Borgo Manfria, sarebbe stato dato alle fiamme. Il rogo avrebbe coinvolto anche altri due furgoni, sempre di proprietà dell'associazione, e utilizzati per il trasporto dei disabili. I due mezzi sarebbero rimasti enneriti dalle fiamme. Sul posto è intervenuta la polizia e i vigili del fuoco per domare le fiamme e effettuare il sopralluogo di rito da cui sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. I vigili del fuoco avrebbero infatti ritrovato un bidoncino contenente liquido infiammabile. Intanto continua l'attività investigativa della polizia di Stato per fare ulteriore chiarezza sulla vicenda.